Gentili telespettatori, buona giornata. Nel programma in onda Sgarbi paragona Grillo a Berlusconi e se la prende con Giuseppe Conte, dice ma il patto della spigola è una prova di sottomissione di Conte a Grillo. Dice così, Grillo come Berlusconi è Conte che è andato da lui, prova di sottomissione come facevano gli altri leader con il Cavaliere. Così Vittorio Sgarbi entra a gamba tesa nella questione interna al movimento, è quando nel PDL erano gli altri leader che andavano ad arcore da Berlusconi, dal capo. E così Conte che va da Grillo, Conte sta andando dal capo. Così Sgarbi il 15 luglio ospite nella puntata in onda il talk show preserale condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio sulla 7. Al centro della trasmissione la recente notizia di riavvicinamento tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E' bastato un pranzo, dice, per suggellare la pace. Quello che va in onda viene definito il patto della spigola, chiarire gli screzzi che li hanno allontanati nelle scorse settimane e iniziare a ragionare sul futuro del movimento. Il garante del movimento e il futuro leader si sono incontrati a Marina di Bibbona, nella casa di Grillo, per iniziare una nuova fase e dirigere e digerire, non la spigola, ma definitivamente i recenti problemi tra i due. Secondo Sgarbi, l'invito del fondatore del movimento sarebbe un messaggio simbolico. Tenere il campo è importante. Quando c'erano le riunioni con Silvio Berlusconi, che era criticato da tutti, alla fine tutti andavano a casa sua. Diventato presidente del Senato, Schifani va a casa sua. Fini andava a casa sua. Non si è mai vista la casa di Bossi o la casa di Fini, perché uno tiene il campo. Quando uno ti invita a casa è come dire tu sei in virtù da me. Hai mai visto la casa di Giuseppe Conte? Chiede a Parenzo. No. Quindi chi non ha una casa non ha potere. Beh, attenzione che il discorso che fa Sgarbi è assolutamente corretto. È fortemente simbolico. È un po' quando voi in un'azienda non avete un ufficio proprio. Siete in coabitazione con altri in un ufficio. L'ufficio proprio è simbolo di potere. L'ufficio solo, per voi, è simbolo di potere. Immaginatevi voi, io sono il direttore vendite, ma sono in ufficio con altre tre persone. Viene sminuita la tua figura. Arrivano clienti, arrivano per parlarti, tu sei in ufficio con altre persone. Sì, direttore vendite, ma delegittimato. Quindi l'ufficio, per esempio, in un'azienda è importante per delle posizioni di un certo livello. E qui sta dicendo la stessa cosa. La casa di una persona è un po' come se fosse l'ufficio. Grillo invita Conte, Berlusconi invita quelli del PDL. Berlusconi e Grillo comandano. La casa di Conte non si è mai visto. Nessuno è invitato a casa di Conte. Chi non ha una casa non ha potere. E questo è corretto. E poi continua con le similitudini con Berlusconi. Tutti andavano ad Arcore. L'idea che il leader andassero da lui era la prova della loro sottomissione. Questo ricevere per il politico è un simbolo di potere. Infine conclude con quanto successo nella casa di Marina di Bibbona. E qui, anche se Grillo è più rustico, ma insomma è una persona intelligente. È lui a ricevere questo poveretto, Giuseppe Conte, dice. Così Davide Parenzo e Concita del Gregorio sembrano apprezzare la sottile analisi di Sgarbi. Dunque chi riceve è il Dominus, dice il giornalista. Ma sì, guardatevi, faccio un esempio anch'io. Quando vivevo nella zona di Arona, tutti gli amici si andava sempre a casa di uno di loro. Perché? Perché era il più ricco, perché aveva una taverna grandissima, aveva il grande televisore, aveva l'effetto stereo, quello che proveniva da tutti gli angoli. Perché in una compagnia quello che ha più soldi è sempre quello che comanda. E tutti si andava a casa sua, perché a casa degli altri non aveva il collegamento per vedere le partite, quello a pagamento, non aveva il grande televisore, non c'era la taverna col biliardo. Quindi tutti a casa dell'amico potente. Economicamente potente diventi anche il capo. Si fa sempre quello che dice quell'amico lì, no? Cosa dice lui? Vuole andare questa volta a Lugano a fare un giro? E tutti dicono sì. Se lo proponeva un altro, diciamo, ma che dici? Ecco, questo è. Dunque chi riceve è il Dominus e ha assolutamente ragione. Poi specifica, effettivamente Grillo era atteso a Roma, ma alla fine non è venuto. Ha chiamato Conte a sé. Avete capito? Non è Grillo che va a Roma, ma è Conte che va da lui. Se non ci avevate mai pensato, attenzione, che questa non è una roba così. Ma che senso ha? Eh no, ha un grandissimo senso. E Grillo lo sa perfettamente. Lo sa perfettamente. Basta che riflettete anche voi con le vostre cerche di amicizie, con chi conoscete e vedrete che è così. Comanda chi ha i soldi, comanda chi ha potere. E quando si va sempre a casa di qualcuno, pensateci bene, quella persona è quella che ha il potere, è il Dominus. È così. Intanto vediamo anche un ultimo sondaggio su Luca Bernardo, che è il candidato sindaco per il centrodestra. Il centrodestra è davanti a Roma, almeno nell'ultimo sondaggio. Cifre abbastanza interessanti. Vediamo se per l'istituto diretto da Raffaele Rio, che ha fatto questo sondaggio, demoscopica, il candidato del centrodestra ha tra il 45 e il 49 per cento per il candidato Lega Fratelli Italia Forza Italia, mentre l'altro primo cittadino, Piddino, ha tra il 43 e il 47. Diciamo che c'è una differenza di due punti percentuali, non sono numeri clamorosi. E i sondaggi fatti comunque il 17 di luglio lasciano il tempo che trovano. Però è una indicazione su quello che sta succedendo a Milano. Insomma, fa capire più o meno che il centrodestra a Milano c'è e che ha un piccolo vantaggio in questo sondaggio. Pertanto, sempre meglio essere indicati con un piccolo vantaggio che con un piccolo svantaggio. Sempre meglio essere in vantaggio che dover rincorrere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie. Ci vediamo tra poco. Ricordatevi che siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Vi invito anche a visionare questo secondo canale di Tele Italia. Grazie a tutti. A presto.